24esima edizione del premio Argo Sippium, un premio che premia tutta la capitanata, la daunia, quella che conta Sì, 24 anni, sembra un sogno ma sono passati 24 anni, è cresciuto a dismisura, questo mi fa un po' paura però mi gratifica moltissimo, soprattutto questa sera vedere tanta bella gente e tanta stampa intorno a noi è una cosa bellissima. Posso dire che quest'anno il premio è stato a stavolta premiato perché c'è il patrocinio del Mibact Puglia? Sì, questa è una bella cosa ma per tutto il territorio perché hanno ritenuto questa manifestazione di valenza culturale notevole e le hanno dato il patrocinio, per cui credo sia una vittoria del territorio e proprio per il territorio noi apriremo la serata con un omaggio al territorio, con la presenza di tre soldi, con la presenza di volpe, con la presenza della daunia production sarà una cosa bella, questo territorio va valorizzato soprattutto in questo momento ferito a morte da tutte le parti ha bisogno di risollevarsi e noi cerchiamo di dargli una mano Grazie a tutti!